A Pearl Harbor gli americani furono colti di sorpresa. Eppure, eppure in Europa la guerra era già divampata da due anni. Ma ancor più in Asia l'impero giapponese, l'impero di Hirohito, stava avviando da almeno dieci anni una guerra aggressiva e di espansione. Il Giappone aveva occupato la Corea, aveva occupato Shanghai, aveva occupato la Manciuria. La Manciuria è quel pezzo enorme di territorio nel nord della Cina, al confine con la Siberia, all'epoca Unione Sovietica. Aveva costituito addirittura uno stato fantoccio, formalmente indipendente, ma di fatto era una colonia giapponese in terra di Cina. I segnali dunque di una politica aggressiva ed espansionistica erano ben evidenti in tutto il mondo. Inoltre nel 1936 Hirohito aveva siglato un'alleanza formale con la Germania di Hitler. Perché dunque il messaggio dell'ambasciatore americano a Tokyo viene ignorato. Su questo elemento si è molto favoreggiato successivamente, persino in alcuni film che hanno ricostruito in maniera dettagliata l'attacco giapponese. Ce n'è uno famosissimo degli anni 70, Tora, 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 era la parola d'ordine usata dai giapponesi per lanciare l'attacco aereo. Uno più recente, Pearl Harbor, appunto. Probabilmente perché l'America di Roosevelt aveva continuato per tutti gli anni 30 una politica estera isolazionistica, in qualche modo un po' come l'America di oggi. Si aveva sostenuto la Gran Bretagna nello sforzo bellico per resistere, unico paese europeo ormai libero all'aggressione nazista, ma non aveva grande intenzione di impegnarsi direttamente nel conflitto. Roosevelt aveva bisogno di un grande incidente per convincere gli americani alla guerra. Non lo sapremo mai. Sa di certo però che dopo l'attacco a Pearl Harbor le sorti della guerra cambieranno nel Pacifico e in Europa. Ci sarà un grande dispiegamento di forze. L'appoggio americano sarà decisivo per la vittoria finale contro le forze nazifasciste e contro appunto l'imperialismo giapponese e si arriverà infine allo sgancio della bomba atomica prima su Hiroshima e poi su Nagasaki. Entreremo nell'era atomica e non è retorico dire che da allora nulla è stato più come prima. Grazie a tutti.